Auto rubate in un'autofficina di via Saragat, l'Aquila. Due auto sono state ritrovate poi ad Albadriatica e Tortoreto. Un'operazione della polizia di stato coadiuvata dai carabinieri. In meno di un'ora sono riusciti a recuperare dei mezzi che erano stati rubati in un'officina di via Saragat. Le auto sono state ritrovate sulla costa, come dicevamo ad Albadriatica e Tortoreto. Il furto è avvenuto ai danni di un'autofficina di via Saragat dove sono state rubate due auto e anche una motocicletta. L'allarme è scattato la mattina quando i proprietari si sono accorti del furto. I ladri avevano bucato la rete di recinzione e aperto i cancelli, riuscendo a portare via una moto da enduro, caricandola su una Volkswagen Touareg e anche un Audi A4. Sul posto c'è andata subito la squadra volanti diretta dal dottor Giuseppe Maria della Regione, che ha immediatamente avviato le ricerche sul territorio regionale assieme agli altri uffici. La stretta collaborazione tra gli uffici di polizia ha permesso anche l'immediato ritrovamento della Volkswagen Touareg, regolarmente parcheggiata, senza la moto all'interno a Tortoreto. Mentre l'Audio A4 è stata ritrovata dal Badriatica, proseguono comunque le indagini per riuscire ad identificare i responsabili.